Girato all'interno del Parco Hotel Mirabò di Gasperina, Runner è in uscita al cinema giovedì 8 febbraio per la regia di Nicola Barnaba, un film con Matilde Gioli, Francesco Montanari, Flora Contrefatto, Anna Wagnerova, Pino Torcasio. Con Runner Barnaba vira verso l'action thriller firmando un film che fa dell'unicità spaziale dell'albergo isolato in cui è ambientata la vicenda, l'ingrediente principale, con il Parco Hotel Mirabò di Gasperina a fare da scenario ideale di un film a metà tra thriller e action movie. Si svolge tutto in una notte, dal tramonto all'alba, e si inserisce nella tradizione del cinema d'azione che ha visto il suo momento d'oro negli anni 80. Runner infatti si ispira a film di intrattenimento che hanno avuto un boom in quegli anni come arma letale, ma non solo, perché Runner offre una visione originale, considerato che non è comune che ci sia una donna al centro di un film d'azione, come in questo caso. Andare al cinema per vedere Runner, che dal prossimo 8 febbraio sarà proiettato nelle sale, per noi calabresi sarà l'occasione di apprezzare una location, il Parco Hotel Mirabò di Gasperina, che si affaccia sulla affascinante costa ionica calabrese.